Telefono, portafoglio, tessera sanitaria, posso andare. Tutta la casa, tutta la casa, tutta la casa, tutta la casa, è molto meglio se anche tu resti alla casa, perché Maria è positiva e c'è il rischio del contagio, porta con te igienizzante e mascherina. Sì, la mascherina mettila sempre, e col naso dentro possibilmente. Attoglio per prevenzione, se fatto pure il tampon, esito è negativo, festeggia col panetto, di andarci non me la sento, non vorrei che poi lo prendo, Simone come un coglione, mi stisce pure il geno. Tutta la casa, tutta la casa, tutta la casa, tutta la casa, è molto meglio se anche tu resti alla casa, resti alla casa. Poi sai che faccio, prendo patto, pesa al volo per capodanno, crocio le dita, non è finita tutta la casa.